Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare un po' di roba che ci è arrivata dal nostro negozio sponsor gioco-libreria Semola, che ringrazio di cuore e immensamente. Si torna a parlare di Games Workshop, si torna a parlare di un gioco di punta della GV, che è Warhammer Underwoods, e qui davanti vedete un po' di roba che ci è arrivata dal negozio e che ora vi presento dopo la sigla. Quello che vedete è un video anteprima, come scritto anche nel titolo, ci farò video approfonditi successivamente, quindi ci farò dei cosa ne penso. Quello che vedete qui davanti è il gioco di punta della Games Workshop Warhammer Underwoods, che è un gioco di schermaglia e velocissimo, dove si va a comporre un tavolo composto da esagoni veramente piccolino, di solito veramente quasi le dimensioni della scatola o poco di più, e si vanno a creare delle bande e soprattutto c'è una fortissima componente deck building, quindi la parte secondo me più importante non è tanto lo scontro fra miniature Mordime, Warcry, Kill Team, alla Warhammer, ma è avere un mazzo di carte fatto bene perché è quello che dà la possanza alla vostra banda, quindi per quanto un guerriere possa essere forte e tutto quanto, la carta giocata al momento giusto gli dà sicuramente più forza e possibilità di combattere al meglio. I tre set che vedete qui davanti sono il secondo, il terzo e il quarto. Il primo, Shadespire, è anche abbastanza introvabile, ma anche vecchiotto come regole e tutto quanto, e non si trova più perché alla fin fine in ogni nuova edizione il regolamento non è che viene riscritto, il regolamento è lo stesso, però magari vengono limate un po' di regole o aggiunto qualcosina in più. Questa qui davanti è Night Vault, che è la seconda, no la seconda edizione, la seconda season del gioco che dovrebbe essere uscita tipo due o tre anni fa, una cosa del genere. Poi c'è Beast Grave, che è quella praticamente quasi corrente perché è durata fino all'altro anno, quindi a fine 2020, e verso appunto dicembre, fine dell'altro anno, primi di gennaio del 2021, è uscita Dire Chasm, che è l'ultima in campo appunto nel gioco di Warhammer Underworlds. Di qua si vedeva in campo scontri nel set di base, dove c'è già tutto compreso, potete giocare praticamente per mesi e mesi se non volete espandere e comprare altre bande e altre carte. Qua dentro c'erano gli Stormcast e Night Haunt. Nella seconda edizione invece, scusate, non la seconda edizione, nella nuova season, che è questa qua, la penultima di Beast Grave, all'interno invece c'erano gli Elfi Silvani, quelli della caccia selvaggia e gli Omni Bestia, e nell'ultima scatola di Dire Chasm ci sono i Luminet, che sono un po' gli Elfi alti del nuovo Age of Sigmar, e i combattenti, i guerrieri di Slanish, o Slanish, che si voglia sempre detto Slanish, che sono veramente miniature bellissime, ed è un gioco veloce, perché la cosa bella di Warhammer Underworlds è che è un gioco che si presenta facilmente, ma che chiede pochi soldi. Siamo sinceri che quando si va a fare un gioco, fra il set di base, fra la truppa, fra quello, fra l'unità, c'è da buttarci magari 100, 200, 300 euro, questo è un gioco dove veramente con questo set base, che magari ne costa 60, 65, 70, voi ci avete tutto per giocare, regolamente e quant'altro, e poi se tutta più volete provare un'altra banda, voglio provare Goblin, voglio provare Night Taunt, voglio provare magari le asce scelte dei Nani, degli Slayer, degli Sventratori, spendi 20, 25 euro, ti compie la banda con le sue carte dentro e hai finito. Sì, è vero che il punto forte e la possanza di questo gioco sono le carte, perché ad esempio le carte non è un gioco collezionabile, assolutamente, quindi le carte che trovate dentro Beastgrave sono le carte della banda A che c'è dentro, le carte della banda B, che quelli sono di quella banda, e poi ci sono delle carte comuni che possono usare tutti, ma le trovate solo qui dentro. Quindi se non trovate Beastgrave, quelle carte non ce le avete, carte potenziamento. Ad esempio, invece, se io vado a comprare le Choose an Axis, come vi ho detto, le asce scelte dei Nani, ci sono le carte dei Nani e altre carte che troverò solo lì dentro. Ma non è che se compro un altro pacchetto, un'altra banda, ci trovo, quelle carte lì le potrei trovare, perché non è un gioco di collezione, quindi quello che trovi nella scatola è lì. Se ti va a avere tutte le carte, ti dovresti comprare tutte le bande, per farti l'esempio per il set di base. Però, fondamentalmente, è un gioco che esce una volta l'anno, nella season corrente, e di solito insieme al gioco escono anche 5-6 bande. Quindi, un collezionista, uno che gioca soltanto ad Underworlds, con 200€ alla cava, potrebbe anche comprare tutto, capito? Fondamentalmente, non è una spesa immensa. E poi, visto che è un gioco che si fa in 2, 3 o 4 persone, ti può anche dividere la spesa, insomma, è uno dei giochi, secondo me, più accessibili della GV, ed è un gioco dove la GV punta molto a livello di tornei, perché, ad esempio, il nostro negozio sponsor, che ora ce l'ho qui a giro da qualche parte, ci ha mandato una busta piena zeppa di carte promo. Che queste carte promo, che sono qui, che poi vi farò vedere nel corso di un prossimo video, queste carte promo non si trovano nelle scatole, e sono carte promo della season corrente. Queste qui che vedete sono carte promo di Beastgrave, non dell'ultima di Dire Chasm. E queste, che io sappia, la GV le manda ai negozi per organizzare i tornei e per darli al vincitore del torneo. Quindi sono carte in più della season, che ti danno, ti identificano come uno dei migliori giocatori e vincitori della season, o comunque di tornei organizzati dai negozi, e sono carte che ovviamente non trovo, non sono stra-mega potenti che rovinano il gioco, è ben bilanciato, però che non trovi negli altri set. Quindi ha avuto, secondo me, la GV anche la trovata geniale di, no, forzare, comunque invogliare i giocatori a andare a giocare nei centri per divertirsi. E poi è una figata, che magari mentre sei lì, c'è il torneo, magari sfidi qualcuno, domani prima fa una partita, e il bello di Underworlds è che è un gioco da mezz'ora. Cioè ti puoi trovare direttamente con la tua banda al negozio e fare qualcuno ha voglia di giocare e fra un'ora devo andare a lavorare. La fai una partita, la fai velocissima. Poi vi farò vedere un po' come funziona in un video successivo miniatura e tutto quanto. Quindi, secondo me, è un gioco spettacolare, è un gioco velocissimo, è il gioco più veloce della GV, ve lo dio senza mezzi termini, veramente. Prima di questo avevo detto Warcry. Veramente metti in campo, muovi partita un'ora, questo è da mezz'ora, venti minuti, mezz'ora conoscendo le regole lo fai. Ed è veramente interessante, anche bello profondo come tipo di tattica e regolamento. Io ringrazio la gioccolibri di Assema per avercelo fornito e se volete ordinare tutta la roba che vedete qui davanti, primo link in descrizione, il suo vi impressione, dalla Gioco Libri di Assema, la nostra negozio sponsor, al miglior prezzo sul mercato e quando comprate, codice sconto Coridan 7 per avere uno sconto del 7%. Se superate la spesa di 79 euro, oltretutto, spese postali comprese, quindi non pagate nemmeno un euro, in 48 ore arriva a casa e se qualcuno dei prodotti non lo trovate in lista o lo trovate in lista ma è finito, voi comunque iscrivete al servizio clienti a Corrado, il proprietario della gioccolibri di Assemola e diteli arrivo dal canale di Coridan, si potrebbero avere anche se non ce l'hai o sono finiti, lui farà il possibile per farvele avere al miglior prezzo e anche in quel caso usate il codice sconto Coridan 7. Ciao ragazzi, alla prossima! ciao! Grazie a tutti.